La Compagnia della Guardia di Finanza di Fano, su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Pesaro, ha dato esecuzione al sequestro preventivo di denaro presente nei conti correnti e di altri beni per un importo di circa 70.000 euro nei confronti di un sessantenne residente nella provincia pesarese e rappresentante legale di una società il quale aveva emesso quattro fatture false per una cifra superiore ai 170.000 euro. Il reato è stato ripetuto sia nel 2015 che nel 2016. L'indagato, attraverso una ditta operante nel settore delle costruzioni meccaniche con sede a Fano e per mezzo delle non veritiere ricevute fiscali, avrebbe consentito ad altre società marchigiane di ottenere un indebito risparmio sulle tasse. La falsità delle ricevute è stata rintracciata grazie al fatto che alcuni documenti fiscali erano stati emessi prima che la società ottenesse l'assegnazione della partita IVA. Inoltre, le società che si sarebbero dovute occupare della rigenerazione del macchinario, oggetto delle fatture, non avevano né stabilimenti né dipendenti in grado di ospitare il bene e di svolgere correttamente il lavoro richiesto. La Guardia di Finanza di Fano, su richiesta della Procura di Pesaro, ha quindi avviato tutti gli accertamenti bancari e le indagini patrimoniali necessarie a conoscere la totalità dei beni in possesso all'indagato. Il valore totale dei beni sequestrati preventivamente all'uomo, ovvero 70.000 euro, rappresenta l'incasso che proprio quest'ultimo aveva ottenuto dalle altre società grazie all'emissione delle ricevute false e all'abbattimento delle tasse da pagare. Il sessantenne è stato inoltre denunciato a piede libero.